Che nel blog, oltre a esserci io, come tanti altri, ma c'è pure lui in grandissimo spolvero, giovanissimo, credo che fosse nella sua veste di attore. Anzi, ci siamo tutte e tre, io, tu e lui, perché quella, come tu stai ricordando, era la rappresentazione teatrale che è avvenuta in occasione della nostra maturità quando abbiamo dato al Cineteatro Vaccara U Contra di Martoglio e in quella veste di attore c'eravamo tutti, compresa te che eri più piccolina. Sì, io frequentavo il quarto ginnasio di allora e mi sono sentita molto onorata di stare con questi grandi che festeggiavano. Quindi il nostro editore, veramente in grande forma, ma non ha perso la sua fisionomia, soprattutto non ha perso la sua grinta. Quindi la approfittiamo per salutare. E torniamo al blog. Testimonianze tante, ma tante sezioni, come tu dicevi, oltre al come eravamo, al come la città. Questo fatto di poter anche entrare in contatto con te e chiedere qualcosa è un fatto bellissimo. Certo. Se tu vai a vedere i commenti che ci sono a fondo pagina, mi dispiace che siano pochi perché molti li inviano attraverso le mail e quindi rimangono un fatto privato circoscritto tra di noi. Ma basterebbe prendere quelle della prima pagina per vedere a quale pennellate di sentimenti e quale carosello di emozioni può suscitare tutto ciò. Basta leggere i soli commenti che arrivano da ogni parte del mondo, come ti ripeto, già per rendersi conto di come la gente ha fame di queste cose, ha voglia di conoscere il proprio passato, le proprie origini, di conoscere quello che era l'ambiente in cui viveva, con cui vivevano i suoi genitori, le origini. Quindi per forza doveva suscitare emozioni e interessi. Torniamo al calcio. Il blog contiene una marea di foto, proprio nella fattispecie, come hai detto tu, eri appassionato di calcio, relative al calcio. Anche questo, per esempio, in me, io sono una grande frequentatrice del tuo blog, desta tantissimi ricordi perché mio padre è stato presidente della squadra, ma non soltanto per questo perché ero legata a questo sport, mi piaceva e anche lì trovo tantissimi ricordi. Ci sono tanti che si interessano a questo? Tantissimi, anzi ti posso dire che è una delle sezioni più seguite perché gli appassionati sono tanti, poi anche i giovani che non conoscevano tutta questa realtà si sono appassionati all'argomento. Addirittura mi ha scritto una persona da New York, un ex calciatore del Mazzara, il quale, vedendo che io in una delle foto di Lascalia avevo messo un nome errato, mi ha fatto una lettera di due pagine dicendo guardi che io ero il titolare inamovibile di quella formazione, sono tizio che è sempronio, la prego di correggere quel nome perché per dirti quanta passione e quanto interesse mette la gente in queste cose. Quindi diciamo ognuno di noi prende quello che vuole, come lo vuole e con l'intensità che vuole, ma tutti indubbiamente sono affascinati. È bellissima e tenera anche, devo dire, suscita tanta emozione anche la pagina dei ricordi di chi non c'è più. Questa, ecco, non è questa la sede adatta, forse la trasmissione adatta perché la nostra è una trasmissione scansonata, un po' leggera, adatta all'estate, ecco. Però mi piace di parlare anche di queste pagine perché in quelle pagine noi riusciamo a fissare nella nostra memoria, a rivedere un po' le persone che ci hanno lasciato. Quella è la sezione che più mi ha affascinato, mi ha interessato e mi ha coinvolto perché, come tu hai potuto vedere, lì non c'è solo la descrizione delle persone, della loro vita, ma anche le mie emozioni personali e i rapporti che io avevo con queste persone, che non ci sono più. Quindi capirai come sono stato coinvolto in prima persona e quindi ho messo in quelle pagine qualcosa in più rispetto al resto. Lì c'è una introspezione e c'è un'estrinsegazione di tutto ciò che è il mio, la mia emotività e la mia, la mia, di fatto mi sto pure emozionando per questo motivo. Ma vedete che è bellissimo perché, insomma, noi attraverso le emozioni, attraverso la commozione riusciamo a dimostrare che nonostante la vita sia così dura oggi, è così difficile, esiste ancora l'affetto, esiste il rispetto umano, esiste la dignità del ricordo, esiste soprattutto l'amore verso gli altri. Certo, e tra l'altro ci sono degli avvenimenti recenti, l'ultimo amico che è andato via, che voglio ricordare perché era una persona nota a tutti, una persona di una sensibilità e di un fascino particolare, che era Nicola Noce, che ha vissuto in questa città per diversi anni, e poi si è trasferito a Trapani, ma siccome lui faceva parte di un complesso che ha fatto la storia della nostra gioventù, per cui credo che molti lo ricordino, lo ricordino con affetto e con passione. E allora, questa persona si commuove, ha un blog eccezionale, è bravissimo, io dico promosso, a voi la parola, aspettiamo tantissime mail, io aspetto tantissime mail da voi, che promuovano il dottor Pino Catalano, ma aspettiamo moltissime mail anche nel blog. Io aspetto moltissime foto. E moltissime foto, mi raccomando, con le foto dei nostri ricordi del nostro passato. Vi diamo appuntamento alla prossima, a Pino Catalano diciamo, ma tu che intenzioni hai? Ancora di emozionarci tanto? Io siccome, come ti dicevo, non è una partita del tempo per me, ma è una vera e proprio ormai passione, fin quanto potrò non mollerò. Un'ultimissima, un'ultimissima, il momento più bello da quando hai il blog. Il momento più bello è stato quando sono riuscito a far incontrare delle persone che da 65 anni non si sentivano e non si vedevano. L'indirizzo del blog, così lo pubblicizziamo. Allora, basta scrivere Pino Catalano, troverete su Google, troverete immediatamente Mazzara Forever. Quindi è più semplice andarci in questo modo che non andare con Pino Blog Spot, che poi non si ricorda mai. Pino Catalano, Mazzara Forever. Mazzara Forever promossa, promossa Pino Catalano, alla prossima. Grazie Pino. Grazie a voi. Grazie a voi.